Un Gela paralizzato da una folgore, avrebbe da dire all'indomani del match tra Petroni di casa del Gela e la folgore Selinunte, andata in scena ieri pomeriggio allo stadio Vincenzo Presti. Ospito uscito indenni dalla sfida contro i biancazzurri di mister Totò Bruculeri e con un punto forse proprio cercato. Amarezza invece in casa Gela, per non aver ottenuto il sorparso sulla San Cataldese, bloccata anch'essa sullo 0-0 nel derby contro il Mussomeli. Tutto è mutato, dunque, con Gela e San Cataldese che continuano a controllarsi a poca distanza in attesa dello scontro diretto del prossimo 24 gennaio. Il Gela visto ieri comunque avrebbe meritato i tre punti se solo la mira dei suoi attaccanti fosse stata delle migliori. Gli errori sotto porta di Mincica, ma soprattutto Alma, a pochi istanti dalla fine, hanno penalizzato oltremodo la formazione di casa, uscito comunque tra gli applausi del Presti. La Folgore ad accanto suo ha giocato in maniera ordinata e sicura, poche le azioni offensive dei trapanesi, che hanno soprattutto pensato a contenere gli avversari cercando di pungere nelle ripartenze. Pronti via gli ospiti perdono per l'infortunio migliore, al suo posto entra Messina. Al quindicesimo ci prova Bongiovì dentro l'area di rigore del Gela, ma il suo tiro di esterno destro è da dimenticare. Al diciassettesimo punizione di Mincica per il Gela, palla alta sulla traversa. Al ventesimo ancora Folgore con Zekan, ma il suo tiro è debole. Poi è solo Gela. Al ventitresimo ci prova Scerra, ma la sua conclusione è fiacca. Ci prova allora Nassi, al ventitresimo servito da Alma, ma la conclusione del numero 9 Biancazzurro è smorzata dalla difesa della Folgore. Al trentaseisimo Scerra, invece di girare di testa direttamente in porta, tenta di servire Nassi, ma sbaglia clamorosamente. Al quaranturesimo Diagonali di Mincica, lavorato da Montagna. Il primo tempo termina così con il Gela in attacco, ma senza la giusta lucidità sotto porta. Nella ripresa lezioni offensive dei padroni di casa si fanno più insistenti. Al sessantacinquesimo Mincica di testa sul cross di Alma manda la palla fuori di un niente. Il Gela si spinge in avanti, ma la Folgore tiene duro con determinazione. A tempo quasi è scaduto Alma e sui piedi la palla buona per mandare in estasi il pubblico del Presti, ma la sua conclusione di sinistro da due passi termina di poco a lato. Disperazione totale per i sostenitori biancazzurri che capiscono che non è giornata. Così, dopo 5 minuti di recupero assegnati dall'espulsione per un rosso diretto immediato da Secan per non farlo sul Campanaro e alcuni momenti di tensione per l'allontanamento dell'allenatore Giacomo Cascino in panchina per sostituire lo squalificato Brucoleri, l'arbitro tarallo di aggringendo decrete alla fine delle ostilità e il pareggio d'occhiali si materializza al Presti. Appuntamento con l'istropasso rimandato.